Vorrei fare un viaggio con voi, un viaggio verso un futuro che non c'era, sì un mondo del lavoro nuovo. Cosa troveremo in questo mondo? Beh, le persone non saranno, evolveranno. Qui ci sarà un altro elemento che mi piace mettere in questo nuovo futuro del lavoro. Le idee non avranno gerarchia e l'ultima ciliegina sarà che risultato, motivazione, benessere saranno in equilibrio sia per le persone che per la comunità. Certo, viaggeremo tra il cinismo. Il mondo è così purtroppo, ma ce lo dicono perché non vogliono cambiare. Proviamo a percorrerlo questo viaggio. Partiamo dalle persone. Le persone tutte hanno un talento. Questo talento emerge se si ha il tempo di guardare qual è la propria vocazione. Certo, ci raccontano, attenzione, coperti, allineati, le paure che prevalgano, le paure di bruciarsi. Ma se andiamo sul terreno che amiamo, il coraggio batte la paura. Non esistono eroi. Siamo tutti umani. E quando la nostra vocazione è centrata, la paura sparisce. Certo, ci vuole quindi un vuoto al centro. Perché se le persone hanno standard, se ci attendiamo da loro la miglior versione di loro che noi vogliamo, prevale la paura. Se cerchiamo di dire c'è un vuoto al centro, espanditi, io ti sopravvaluto. Come l'arciere quando mira un bersaglio. Non lo mira puntualmente. Perché altrimenti i fattori atmosferici non farebbero arrivare la freccia. Dobbiamo sopravvalutare le persone. Le persone in questo vuoto al centro in cui le sopravvalutiamo si espandono. Ci sarà da gestire l'errore. Una cultura dell'accettazione. Certo, le persone dovranno avere il coraggio di chiarire qual è la propria vocazione. Le idee non hanno gerarchia. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'organizzazione le trova ovunque. Un'azienda, una comunità, una realtà che segue la gerarchia si perde fiori e fiori di stimoli. Se le idee non hanno gerarchia bisogna avere la capacità di non competere con gli altri, ma regalarle queste idee. Quindi si compete con se stessi. Molte volte per paura che un'idea mia diventi tua non la do. E lì la comunità non fiorisce. Certo, il talento di queste persone, appunto, uso la metafora fiorire, è un po' come un fiore. Non si può fiorire ovunque. Una papavero portato in montagna, ghiaccia. E quindi il compito in questo vuoto al centro è di lasciare il talento esprimersi, ma aiutarlo a andare nell'ambiente giusto per fiorire. Ed è determinante. Le persone sono arance, non sono spicchi di arance. E sovente le vediamo solo per il loro spicchio dovuto. Che bello ampliare il discorso di cosa ami, di cosa hai paura, cosa vuoi. In questo nuovo mondo del lavoro varrà a esprimersi in maniera completa. Non ci si potrà nascondere dietro un mestiere. D'altronde processi, sistemi si coppiano. Nel mondo del lavoro del futuro in cui questi talenti fioriranno gli occhi delle persone. L'energia far scendere dalla testa al cuore le decisioni creerà barriere competitivi, inarrivabili. Sarà l'umano il fattore di competizione. E non si potrà copiare. Ed ecco che anche i cinici che si chiedono perché coltivare questo tipo di espansione umana capiranno che le loro aziende saranno invincibili solo con le persone. Le aziende non hanno successo. Hanno successo le persone di quella azienda. Ma andiamo avanti. Sul risultato, sul fare, centinaia di anni ci hanno spiegato come agire. Ma sul sentire, sentire le paure, sentire le emozioni, sentire la vocazione, sentire la vulnerabilità. Siamo analfabeti. Nessuno vuole toccare il binario del fare. Io chiedo di valutare come un binario del sentire possa potenziare e rendere sostenibile nel tempo quel risultato. Veniamo al benessere. Il benessere è fatto di due componenti. Stare bene. Lì abbiamo psicologi e medici che sanno fare. Funzionare bene. Ecco che sul funzionare bene si apre un tema. Io funziono bene se faccio ciò che amo, se lo so fare e se lo faccio in una rete relazionale che mi garantisca una meritocrazia è una remunerazione delle mie attività. E qua c'è tutto quello che possiamo fare. Creare questa attenzione. Io sono un marino. Amo la montagna. Non so sciare però. Se mi trovo su una pista impegnativa, il mio amore per la montagna non mi fa stare bene. Non so sciare. Possono insegnarmelo. Ma se scio da solo, non essendo un monaco tibetano ed essendo un networker, di nuovo non sto bene. ho bisogno di sciare con gli altri. Ecco, so fare le cose che amo e lo faccio con gli altri. Sarà la dimensione di questo mondo del lavoro. Andiamo alla motivazione. Troppe volte ci hanno detto fai questo, formati su questo, segui questo. Perché la motivazione esogena era una logica. Ma noi l'abbiamo capito. Non serve. Il motivatore esogeno può stressarsi a forza di dire fai. Ma se la fiaccola non si infiamma e non c'è una motivazione endogena, la società non evolve. Quindi noi siamo su questa visione futura in cui dovremo attivarci. C'è una grande responsabilità in tutto questo. E torniamo all'individuo. Siamo gocce dell'oceano. Dobbiamo sciogliere il cinismo. La goccia fa l'oceano. La persona fa il futuro. E non dobbiamo aspettare una mano invisibile. Non dobbiamo aspettare una programmazione esogena. Dobbiamo agire. Dobbiamo agire verso un futuro che costruiremo insieme. Un futuro che ci abilita perché ci legherà sul talento e le passioni. E ai amici che ci dicono non ce la farete, ricordiamo una cosa. Potranno tagliare i fiori, ma non fermeranno questa primavera. Grazie.